Il nostro consiglio di oggi è non stancarti di andare, BAU Edizioni, probabilmente uno dei libri più belli dello scorso anno. Si tratta di una graphic novel intensa, a tratti quasi dolorosa, scritta con riferimenti personali da Teresa Radice e illustrata magnificamente da Stefano Turconi, qui più che mai capace di incanalare le emozioni in forme e colori. Tanti personaggi di questa storia, i principali sono Iris e Ismail, lei in Italia incinta, in attesa del ritorno di lui. Lui, bloccato in Siria dal conflitto, proverà in tutti i modi a superare quei deserti per ricongiungersi alla donna amata. Tante anche le tematiche trattate, la famiglia, la capacità di sentirsi a casa anche in un luogo in cui non si è effettivamente nati, la guerra, il ruolo della fede in tutto questo e soprattutto la capacità di attendere senza perdere la speranza. Venite a scoprire questa storia meravigliosa e come sempre diteci cosa ne pensate sui nostri canali social. Grazie a tutti.